Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video di Destiny 2 Perché ho pensato, in attesa di scoprire come andrà il sondaggio dello scopriamo di Destiny 2 Che appunto voglio darvi qualche ora per votare e per dare modo a tutti di vederlo E appunto esprimere il proprio voto Perché non farci un po' di crogiolo per vedere un po' com'è l'esperienza PvP Per cui il crogiolo affina le due abilità e conquista la gloria in battaglia contro altri guardiani Io sono storicamente abbastanza scarso negli sparatutto Però, 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 facciamoci una bella competitiva Visto che ho già sbloccato l'accesso alle competitive Appunto ho fatto un paio di partite veloci giusto per vedere che i server fossero tutti a posto Lo sono, sembra che tutto vada bene Per cui proviamo, vediamo come va Io ho un personaggio abbastanza ridicolo per adesso Perché appunto ho fatto quello che avete visto, ne lo scopriamo E due sfide veloci in multiplayer Per cui sono livello 19 Adesso non lo vedete perché c'è la mia faccia sopra Però il mio livello appunto è livello 3 con un valore 19 Per cui non è che sia così abile ancora Ho le armi che avete visto l'ultima volta Per cui non aspettatevi miracoli Però magari qualche sorpresa ci sarà Per cui vediamo come va Allora, dirupo abbandonato Zona morte europea Terra Mappa che non credo di aver provato Non credo di aver provato sinceramente Sopravvivenza, scommissioni di avversari per decimare la loro scorta di vite Se avete tutte le vite i giocatori non possono rientrare Vabbè, si può fare Per cui rimaniamo uniti Io sono il più scarso della squadra da quel che vedo Gli altri sono di livello abbastanza altino Ecco, ho lisciato subito Ma che bello Non vedo nessuno Ma proprio nessuno, nessuno Si sono nascosti Vanno stanati tipo topi Allora, il primo round è andato alla grande direi Io non ho dovuto fare assolutamente niente E non ho beccato nessuno Per cui è stato una cosa abbastanza particolare Cerchiamo questa volta Vorrei essere un attimino un po' più protagonista Se riesco questo Questo secondo round Seguirò i miei compagni in capo al mondo Noto qualcosa Da quella parte Che diciamo che l'esperienza online di Destiny Sembra essere rimasta Molto fedele a quello che conoscevamo Molto fedele a quei niente Non mi hanno dato Non mi sono preso la kill Porca miseria Eh, a te si però Dai, dai Aia Molta calma e tranquillità Vabbè, qua me la sono giocata abbastanza bene Devo un attimo rientrare un po' nell'atmosfera generale di Destiny Ma diciamo che linea di massima Arrivo sempre tardi È una cosa pazzesca Sto giocando contro i picchiatori Sarà Sarà appostato a camperare come un maledetto Aiuto Niente Eh, mi è arrivato Mi è arrivato alle spalle Vabbè, comunque Noi siamo Siamo ancora In grado di Di affrontare la situazione Bene È più tirata questa Obiettivamente è molto più tirata Dai, 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 dai Primo round è stato di una Piattezza Spaziale C'è la miseria, porca Aia Io ho bisogno Avrei bisogno di armi nuove, ma Non ho ancora avuto il piacere Ma che bello Vabbè, oh Cioè, se ci batte questo Niente Bene Io ho fatto qualcosa di decente Questa volta Oppure Sì, tre uccisioni Vabbè, sono l'ultimo del gruppo Ma Ma poco importa L'importante è che si vinca Anche perché, insomma È la mia terza partita online Con Destiny 2 Per cui devo dire che anzi Sto andando anche molto oltre Quelle che erano le mie aspettative C'è la miseria, porca Porca miseria, porca Se non avessi cercato di lanciare una granata Che non avevo Non avrei perso quei due, tre secondi utili Che poi mi sono costati la vita Vabbè, allora Dai, 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 dai Che sarà un lungo anno Probabilmente Second Destiny 2 Vedo l'ora di vedere Che cosa ci farai Eh, che ci farò Niente Che vuoi che ci faccio Al solido Ma porca Dai, dai, dai L'ho vindicato il nostro compagno Dove stanno tutti? Eh, dove sta? Non trovo nessuno Ho anche un'arma abbastanza seria Da Da sfruttare Fatemela sfruttà Non trovo nessuno Di fronte a me Quanta vita c'hai Ma porca Mi hanno fregato Ho finito i colpi Nel momento clou Vabbè, l'importante è che L'ho indebolito Bene Beh, direi che abbiamo una squadra Che è abbastanza Devastante Io penso di aver fatto Mezza kill qua No, sto a 5 Vabbè Diciamo che Dai, dai, dai Una partita schiacciante Stiamo azzerando Stiamo azzerando qualsiasi forma di Di resistenza Da parte dell'avversario Ma te puoi mettere sempre a camperà De lato Ma sarà possibile Mai No Pensavo fosse lì Ma quanto l'ho sprecata Ma quanto l'ho sprecata Ero convintissimo Devo poter far panico Sto Sto rosicando Veramente Più di ogni altra cosa Al mondo Tirate fuori un nemico Vi supplico Vado Vado Eh, te pare Che mi finisce Quando sto davanti a lui Un grande classico Proprio Eh, vabbè Potevo fare veramente Poco, poco, poco In quel momento Lo sono trovato davanti Con una super caricata Per cui Era Era abbastanza Disperata Come situazione Manco se C'avevo urtile Della sporto Mistico Allora Sì Va bene uguale Niente Ma che sfiga C'ho Ma sempre All'ultimo Comunque Devo dire Che A dispetto Appunto Di abilità Ancora Ampiamente In divenire Non mi sto trovando male Anzi Il sistema di appuntamento Poi è Come sempre La cosa più bella Del gioco Di un Rifinito Come poche altre cose L'abbia visto In ambito shooter Per cui C'è veramente Poco da lamentarsi Da questo punto di vista Comunque Un bel 4-0 Rotondo Andata molto bene Dunque Vabbè Io Ho fatto 8 uccisioni Sono morto una volta Che poi non Ah vabbè In questo round Comunque È andata discretamente È andata discretamente Allora adesso Ne proviamo un'altra Sperando che ci cambino modalità Così da avere modo di Di valutare anche Qualcos'altro Anche perché appunto Non Questa sopravvivenza È la prima volta Che la faccio Ma immagino Ci sia ben altro Dunque ho fatto Un simil dominio Ho fatto La sopravvivenza Ah ma è finita qua Devo riavviare Tutto un'altra volta Vabbè Allora Creggiolo Competitiva Di nuovo E avviamo Allora intanto Vediamo 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 Quello che abbiamo ottenuto Nel mentre Allora Io ho ottenuto I guanti Provocazione urlante Va bene Ci piace Poi Difesa 35 Questa ci piace Parecchio Qui ho Vabbè Qui non cambia Veramente niente Armi Tristezza Infinita Qui non c'è nulla Ecco Un'arma nuova Fucile a pompa Che non è che sia Particolarmente Insomma Inarrestabile Però un 37 È l'arma migliore Che abbiamo al momento E va bene Per il resto Non ho praticamente Niente Da poter Da poter usare Sono ancora abbastanza triste E Ed evoluccio Ma col tempo Confido che le cose Possano in qualche modo migliorare Tanto infatti Il livello Il livello generale È salito al livello 3 Con valore 28 Insomma Con queste piccole modifichine Qualcosina abbiamo guadagnato Adesso vediamo Cosa si riesce a fare In quest'altra sfida Sperando di ripetere Magari una vittoria E portarci a casa Qualcosa di valore Allora Javelin 4 Zona di lancio Warsat Anzi Warsat Magari Ehm Pensavo che fosse polacco Non chiedetemi perché Ma La mia mente Aveva fatto Un'associazione Particolare Allora E niente Un'altra sopravvivenza Allora Sarà Sarà tosta Come poche cose al mondo Non Ah Eccoli 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 No Lissio Primo round È sempre abbastanza È sempre un po' così Preso 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 Non so manco io Come ho fatto a sopravvivere Ma preso L'importante è che Sei preso Piano 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 Tu sei amico Ma che cazzarola Non l'ho visto Ah Che Rincoglionito Cioè mi sono girato Ho visto un compagno Ho detto vabbè Sono coperto da quel lato Invece non lo ero Manco Per Niente Questa parte qua Così esposta Non mi piace Eh vabbè In coppia però Porca miseria In coppia è dura In coppia è molto dura Io vorrei un'arma In linea con quello che C'ho la pistola Niente Qua sto giocando Malissimo Malissimo Mi metto a cambiarmi Mentre cammino Verso qualcuno Terribile Terribile Non c'ho manco Rientro No Amaro 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 Giocata Malissimo Di una bruttezza Incommentabile Incommensurabile Allora Eeeh Ho fatto un'uccisione Mamma mia Che tristezza Allora Allora Posso dire che non mi piace Granché sta mappa È troppo esposta È decisamente Troppo esposta Andiamo a prendere Quello C'ha la miseria Se t'acchiappo No Ma non è possibile Ma non è possibile Veramente Sto Sto tipo Rosicando Troppo Sta partita Eh Vabbè A voi morire E meno male Mamma mia Mi stava cerchinando Ma La tua squadra Non ha più vite Oh Santo cielo Io so già Che questo gioco Mi farà sclerare Come altre Come poche altre cose Al mondo In multi Dunque abbiamo Zero vite Fa piacere Aia 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 Preso? Sì Preso Sì vabbè Ma rimaniamo sempre Con un botto Niente Eh vabbè Sono Sono un cretino Sono un cretino Sono un cretino Gli ho fatto l'attacco Corpo a corpo Quando c'era Quando c'era Lo scudo pieno Che cosa gli fa L'attacco corpo a corpo In quel caso Niente gli fa Assolutamente niente Stiamo perdendo 2 a 0 Partite a speculare Alla precedente Cioè Lo sveglione Cosmico Adesso lo stiamo Prendendo noi Va bene Giustamente Ma perché insisto Ma perché insisto Perché Perché Sempre con questa Boiata Del corpo a corpo Pensando che abbia Poca vita Per finirlo E regolarmente Mi finisce lui A me Eh vabbè Eh vabbè Che tocca fa Niente vabbè Qua sei Sei perennemente Circondato Sei perennemente Circondato Se ti esponi Mezzo centimetro Finisce come peggio Non potrebbe finire Devo dire che la sto Giocando male Anch'io Per cui È un po' Un insieme Di ingredienti Che si traducono In una sconfitta Inevitabile Porca di quella miseria Porca di quella miseria Porca Ne ho portato Nella tomba Almeno uno con me Ma È servito a poco 4 vite Ci hanno questi Figurate C'è da ridere No Tutti quanti Di fronte Tutti Mi sono trovato Tutta la famiglia Riunita Per commemorare Il mio triste Decesso Vabbè Che sveglia Che sveglia Comunque Adesso Al di là Di come sto giocando io Devo dire che La sensazione È che A livello di netcode Il gioco sia Pulito E Rifinito Come pochi altri Non ha fatto Mezzo scatto Non c'è Assolutamente Input lag Cioè tutto lo schifo Che vedete È farina del mio sacco Non è imputabile Assolutamente Ai server Sto per morire male Vorrei evitare Ecco È farina del mio sacco Non noto Rallentamenti Non noto Niente Cioè proprio Eh vabbè Eh vabbè Allora Allora Mi devo veramente Far vedere da uno bravo Perché non è possibile Che mi finiscano Sempre in questa maniera Comunque Appunto Dicevo Al di là Di come sto giocando io Non ho veramente Da dire A Su quella che è L'esperienza online Sembra di giocare In singolo E penso che questo La dica lunga Su quella che è La qualità Dell'esperienza Porca Di quella miseria Se uno imparasse a giocare Se la potrebbe godere Veramente parecchio Questa La qualità di questo netcode Io sto giocando su one Premetto Ma immagino che insomma Sia Sia indifferente Anche su ps4 Quando sarà Immagino che sarà Ancora meglio Eh sì vabbè In due cose spade Poi Immagino sarà ancora meglio Quando Quando poi le cose Eh si apriranno Anche su pc Che poi peraltro Piccola considerazione A margine Ma perché Avete dovuto fare Sta cosa Della Dell'uscita così Postuma Su Su pc Vabbè Su pc A distanza Di così tanto tempo Quando secondo me Un lancio simultaneo Sarebbe stato Molto molto meglio Sotto tutti i punti di vista Anche insomma Per garantire A tutti la possibilità Di giocarselo Su una piattaforma Dove potenzialmente Sarà ancora meglio Rispetto a come è su console Ad ogni modo Vabbè ragazzi Io direi che Una vittoria Una sconfitta E Ci posso stare Come primo video Sul crogiolo Ci posso stare Per cui niente ragazzi A questo punto Io vi segnalo Di votare Sul sondaggio Che trovate Nel scopriamo Di Destiny Che al momento Avete in descrizione Nelle schede Lo trovate un po' ovunque Per farmi sapere Cosa volete vedere Di Destiny 2 Appunto C'è veramente Tanto da fare Io sono in dubbio Tra qualche video Random Su cose Generiche Un disperso In Destiny 2 I video sul crogiolo Tutta la ziova Ci abbiamo Veramente l'imbarazzo Della scelta Questa volta Per cui fate Esprimete La vostra opinione Nel sondaggio Che trovate Non lo scopriamo E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi